Giovanni na terza, allenatore della Libertas Altamura, è stata una partita molto bella, combattuta o almeno ci avete provato contro questa squadra che vi ha agganciato al quarto posto in classifica meritatamente? Molto meritatamente, complimenti a loro perché non siamo quasi mai stati in partita, solamente al terzo quarto, ma non siamo arrivati a meno sette. Poi hanno reagito molto bene, hanno ripreso quel divario che avevano offriti i mani, il primo e il quarto, comunque complimenti a loro, molto concentrati su tutto, i palchi, bravi, bravi su tutto. Sia l'avversario così preparato mentalmente, sia noi un po' in vacanza, non so, comunque ci sta anche. Tra l'altro avete fatto un buon giro di andate con un quarto posto onorevole. Sì, abbiamo due impegni molto importanti in casa con il Viest e poi già andiamo a fare visita al Foggia. Sì, siamo là, siamo là meritatamente, più di quanto ci aspettassimo all'inizio. I propositi da adesso in poi sono quelli con quanto meno di rimanere in zona playoff? Sì, sì, speriamo di restare tra le prime otto per poi giocarci pre-op, però ripeto, all'inizio l'obiettivo della squadra era quello di salvarsi una salvezza tranquilla, che penso se non ci distraiamo la raggiungeremo tranquillamente. Grazie, buon lavoro. Grazie a me. Grazie coach. Ok.